25 giugno 2022, nella cornice dell'anfiteatro di Bisceglie, lungomare Paternostro, competizione riservata agli agonisti, circuito nazionale Open Water Filippoia, stanno per partire, i ragazzi li abbiamo citati, fanno parte di una ventina di società, adesso partiranno gli agonisti. 3, 2, 1 E i giudici di partenza, date il via con la bandiera gialla, sono partiti, lungomare Paternostro di Bisceglie, siamo nell'anfiteatro, stiamo nuotando verso Bisceglie, stiamo puntando la boa gialla, atterremo tutte le boa gialle sulla sinistra, 2 giri di percorso, una volta raggiunta la boa gialla, riputeremo verso Trani, quindi per arrivare dove vedete l'altra boa sotto la torre che domina il lungomare, per ritornare poi verso questa posizione, verso l'anfiteatro e fare il secondo giro, quindi 2 giri per la 5 km, nuoto in acque libere, riservato agli agonisti. Grazie a tutti! E' stato per arrivare, sta per toccare, è arrivato, è arrivato il primo atleta, ha tagliato il traguardo. Grazie a tutti! Via, sono partiti! Io li sei partendo, date via! E sono partiti anche i ragazzi per 3 km! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!